Ciao a tutti, sono Melania Carradini, ho 26 anni e sono una sciatrice della squadra paralimpica italiana. Sono la nuova testimonia di Let's Donation, un nuovo semplice modo per fare della solidarietà a tutti quanti. Seguiteci su www.letsdonation.com, un nuovo sito, un nuovo modo per stare vicino a dei progetti che vi stanno più a cuore e anche delle persone. È molto semplice, basta registrarsi con un semplice click. Io l'ho già fatto. Tu cosa aspetti? Ciao!